Buonasera a tutti, grazie per la presenza, grazie perché siamo pochi e credo che i presenti siano magari quelli più sensibili a questa tematica. Ovviamente io non sono, come assessore lo dico, felicissimo quando non vedo partecipazione, perché poi, come dicevo anche prima, quando c'è da lamentarsi lo si fa sempre nelle sedi meno opportune, quindi sui social, invece questi sono proprio degli incontri fatti in modo che se c'è qualcuno che deve dirci qualcosa ne approfitta e lo fa. Quindi va bene, io vi ringrazio davvero. Perché questi incontri? Come dicevo prima, lo Corotondo è comunque un comune che non si può lamentare per la produzione di rifiuti differenziati, o meglio anche nella raccolta, i nostri cittadini diciamo che all'80% svolgono il proprio dovere con precisione. però non dobbiamo mai abbassare la guardia, nel senso che è importante dare quelle piccole basilari nozioni, ricordarcele, perché spesso capita che le frazioni differenziate, quali magari l'organico per chi non ha la compostiera, piuttosto che la carta o il vetro, all'interno si trovano in purità. Magari si commettono anche errori che non sono dovuti al fatto di negligenza o sbadataggine, ci sono errori magari dove non si ha proprio la conoscenza del fatto che il cartone sporco di pizza, lo porto sempre come esempio, può andare tranquillamente nella carta se non è molto sporco, o nell'organico se è sporco di olio, eccetera, eccetera. Quindi sono piccoli dettagli che fanno sì che poi il comune non subisce delle sanzioni da parte delle discariche dove andiamo a conferire per esempio l'organico. Sanzioni che poi vengono pagate da noi, ma a nostra volta poi dai cittadini stessi. Nell'organico spesso si trovano in purità pari al 4-5%, significa la busta del prosciutto, la carta del prosciutto, piuttosto che la bottiglia di vetro, piuttosto che l'alluminio, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa roba poi ci mette nelle condizioni di dover pagare delle multe, delle sanzioni. È un momento, sono momenti questi dove appunto siamo aperti a qualsiasi tipo di domanda e informazioni. Io mi limito a dire che per chi ha esigenze, vi prego di dirlo anche ai vostri parenti e amici della zona, di avere la raccolta aggiuntiva per i pannolini e pannoloni, cosa che ad oggi nell'agro non c'è la raccolta ad hoc dedicata come il centro urbano. Io mi ero impegnato nei mesi scorsi a farlo. Stiamo facendo un censimento esplorativo, significa che fino a metà maggio chi ha questa esigenza deve comunicarlo o al comune o all'ufficio della Monteco. Qui all'interno abbiamo messo i riferimenti. Dobbiamo capire con la Monteco quante richieste ci sono e quindi far partire possibilmente quanto prima questo servizio. È un impegno che avevo preso e stiamo cercando di mantenere. perché sappiamo benissimo che l'indifferenziato l'abbiamo ridotto per consentire il passaggio dell'organico a chi ne faceva richiesta, l'abbiamo ridotto da 2 ad 1. Quindi c'è il problema effettivamente di chi ha bambini o persone anziane all'etate che ha solo un giorno per buttare il pannolino e i pannoloni. Quindi questo è un messaggio importante che volevo dire. Domenica 30 aprile stiamo organizzando sempre con il concorso porta a pesa e vinci una passeggiata ecologica sulla circonvallazione. Quindi anche qui se avete voglia un paio d'ore di stare con noi alle 9 si parte dalla circonvallazione e faremo dei tratti dove raccoglieremo quello che troviamo, plastica, bottiglie di vetro, indifferenziato. L'ultima volta il quantitativo ricordo che si era abbassato rispetto al 2021, però parliamo sempre di qualche quintale di rifiuto. Però è una giornata diversa che si passa insieme. Io non ho altre comunicazioni, vi invito a prendere questa brochure che abbiamo fatto. Altra cosa importante, le tariffe, che è la cosa che più interessa forse il cittadino, per il 2023 dovrebbero essere confermate quelle del 2022, quindi non ci sono aumenti con tante difficoltà perché comunque i costi per i conferimenti continuano ad aumentare, gli adeguamenti per il rincaro dei carburanti e dell'energia continuano ad aumentare, quindi di conseguenza il Comune è costretto a sborsare più soldi, però nello stesso momento deve mantenere la tariffa immutata nei confronti cittadini. Ci stiamo riuscendo con tante difficoltà. Le riduzioni idem, abbiamo le stesse riduzioni dell'anno scorso. Io non le ho scritte in questa brochure come ho fatto l'anno scorso perché ancora non c'è l'ufficialità. Nel momento in cui ci sarà l'ufficialità comunque ve ne sarà data comunicazione. Non aggiungo altro. Grazie. Grazie. Ringrazio il Vice Sindaco e buonasera a tutti. Vi ringrazio anch'io per la presenza. Pochi ma buoni. Vuol dire che siete veramente interessati a questo discorso delicatissimo della raccolta differenziata. Oggi siamo qui per un momento di condivisione dei vostri dubbi che riguardano la raccolta differenziata e siamo qui per chiarirli. Ci sono ancora purtroppo alcune criticità e noi dobbiamo fare in modo di sistemare queste piccolezze che fanno purtroppo la differenza in modo negativo. Partiamo dall'organico. Partiamo col dire che l'organico, penso voi sappiate benissimo, che deve essere inserito nelle buste biodegradabili compostabili. Ancora tuttora purtroppo gli operatori che effettuano la raccolta differenziata una volta che fanno la raccolta porta a porta si ritrovano ancora a vedere l'organico conferito nelle buste di plastica, cosa che purtroppo non si può accettare perché l'organico anche se fatto bene è poi inserito in una busta che non è consona alla raccolta. Di conseguenza una volta che arriva nell'impianto viene scartato a priori perché non riesce proprio ad avvenire il processo di compostaggio. Quindi fate molta attenzione a questa cosa perché sembra un banale sbaglio però purtroppo veramente compromette tutto l'impegno che magari voi ci avete messo per effettuare effettivamente la raccolta. Come penso voi sappiate benissimo nell'organico vanno tutti gli scarti organici, tutto ciò che proviene dalla natura quindi appunto scarti di alimenti, gusci delle uova, genere di spenta di piccole dimensioni, piccoli sfalci e potature, piante secche ma sempre di piccole dimensioni. Nel momento in cui invece voi abbiate sfalci e potature di grandi dimensioni sapete bene che dovete andargli a conferire al centro comunale di raccolta. Avete dubbi per quanto riguarda l'organico? Volete fare qualche domanda? Sì certo, lo corotondo da quello che so io risponde abbastanza bene al discorso compostiere. Naturalmente chi non vuole, lo so, appunto sì, ma credo che il signore si riferisca proprio alle persone che hanno la possibilità di averla e poi invece non la richiedono. Effettivamente c'è, purtroppo chi prende la compostiera deve essere consapevole del fatto che deve seguirla perché la compostiera se sbagli poco poco e non sei bravo a fare tutti i passaggi automaticamente è meglio non averla cioè il fatto che una persona decida di prendere la compostiera deve essere consapevole del fatto che debba curarla perché poi va a intaccare anche magari tutto il vicinato attirando... Sì no, ma io sono d'accordo, io sono pro compostiera soprattutto se si ha un appezzamento di terreno anche perché voglio dire concime gratis, ci sono più le cose positive delle cose negative. Per quanto riguarda l'organico, come vi diceva anche il vice sindaco, penso voi lo sappiate però lo ripetiamo il fatto del discorso del cartone della pizza. Se voi vi rendete conto che effettivamente questo cartone quando terminate la pizza è pulito potete tranquillamente conferirlo nella frazione della carta se invece è sporco potete ridurlo in piccoli pezzetti e metterlo nell'organico perché proviene sempre comunque dalla natura il cartone quindi di conseguenza può essere inserito lì. Lo stesso vale per i fazzolettini sporchi di cibo, potete conferirli nell'organico invece è diverso il discorso per i fazzolettini che utilizziamo per il raffreddore con l'arrivo del covid purtroppo alcune regole sono cambiate quindi di conseguenza se prima il fazzolettino del raffreddore si poteva buttare nella frazione dell'organico perché proviene da un essere vivente ancora tuttora le leggi sono cambiate perché deve essere conferito nella frazione del secco residuo non riciclabile nel caso in cui magari può intaccare e infettare tutto quello che c'è nella frazione dell'organico nell'organico possiamo inserire anche le posate bioregradabili compostabili perché adesso come ben sapete stanno cercando di eliminare la plastica dalla circolazione quindi c'è stato un incremento molto alto di posate bioregradabili compostabili che possono essere conferite tranquillamente nell'organico naturalmente dovete sempre fare attenzione alle etichette che trovate sui vari imballaggi perché lì se avete qualche dubbio ora come ora per legge devono inserire dove ogni tipologia di rifiuto deve essere conferita per quanto riguarda la carta dicevamo dovete inserire tutto ciò che è pulito tutto ciò che proviene dalla carta, carta e cartone puliti naturalmente non so se sapete che gli scontrini non sono carta ma vanno nella frazione secco residuo non riciclabile perché quella è una carta termica quindi purtroppo non va conferita nella carta naturalmente sempre riguardante l'imballaggio in carta e cartone se avete la possibilità di eliminare da questi imballaggi lo scotch o comunque qualsiasi altro tipo di elemento e non consono alla carta e cartone comunque fate un favore a chi sta nei centri di valorizzazione del rifiuto perché comunque aiutate anche gli operatori che lavorano a non fare quel tipo di passaggio però nel momento in cui vi doveste dimenticare di farlo non c'è problema ma tanto ci sono delle macchine anche che eliminano questi problemi per quanto riguarda invece la plastica il carta e cartone sapete benissimo che se avete la possibilità di andare a ritirare il sacchetto di carta come anche il sacchetto compostabile perché voi avete una presa ogni sei mesi al front office se avete la possibilità di prendere le buste per la carta e il cartone dovete inserirle all'interno se non avete la possibilità di andare a ritirare quelle buste l'importante è che le mettiate nel mastello apposito della carta e cartone per quanto riguarda la plastica stesso discorso dell'organico bisogna utilizzare solo buste di plastica semitrasparente non nere vi sottolineo il non busta nera perché ancora nel vostro comune non c'è stata nessuna ordinanza però per legge il sacco nero non deve essere utilizzato naturalmente questo ancora tuttora è in base ai vari comuni in base alle varie amministrazioni che fanno le ordinanze però pian piano stiamo facendo in modo di eliminarlo quindi io negli incontri informativi che sono partiti il 12 aprile sto già avvisando tutta la cittadinanza in modo tale che nel momento in cui verrà fatta l'ordinanza voi non vi troviate impreparati insomma quindi se avete la possibilità di smaltire questi sacchi neri e non acquistarne più vi chiedo di farlo in modo tale che poi non vi troviate con questi sacchi neri in più dentro casa e poi andare al front office e dire perché il sacco nero non me l'hanno ritirato quindi per quanto riguarda la plastica sacco o quello che vi viene dato al front office o rigorosamente semitrasparente cioè noi dobbiamo vedere o comunque l'operatore deve vedere cosa c'è all'interno ma proprio per una questione di legge ormai tutto quello che viene conferito deve essere visto vi spiego anche il perché per quanto riguarda Monteco questa decisione è nata dal dover seguire una legge ma anche perché tempo fa è successo che un utente ha conferito nella frazione della plastica una siringa che sappiamo benissimo che le siringhe vanno conferite nel secco residuo non riciclabile è stata conferita questa siringa senza il cappuccio al lago quindi quest'operatore ha preso questa busta della plastica sicura che fosse plastica e non era nemmeno nel sacco, c'era in un sacco nero quindi andando a prendere la busta l'operatore si è punto e quindi è successo tutto quello che purtroppo è successo ha dovuto fare tutta una serie di controlli per capire effettivamente se ci fosse un problema quindi da cosa nasce il sacco nero o no dal fatto che comunque un operatore deve tutelarsi è che naturalmente la raccolta differenziata deve essere fatta bene quindi tagliamo la testa al toro, sacco semi trasparente così vediamo cosa c'è all'interno nel momento in cui il rifiuto non è consono con quella presa viene lasciato cosa va nella plastica? Tutto ciò che è imballaggio bottiglie di plastica, piatti di plastica, bicchieri di plastica la pellicola o anche le vaschette degli affettati adesso in alcuni supermercati danno anche la possibilità di suddividere l'involucro degli affettati da carta dalla plastica quindi se avete la possibilità di suddividerlo ma c'è proprio scritto sull'involucro avete la possibilità di inserire la parte della plastica nella plastica la parte della carta nella carta non le posate perché come ho detto le posate se sono biodegradabili e compostabili vanno nell'organico se invece sono di plastica vanno conferite nel secco residuo non riciclabile perché non sono un imballaggio e tutto ciò che effettivamente è di plastica potete anche inserire dei giocattoli se non so se avete bambini di piccole dimensioni purché siano di piccole dimensioni se invece sono di grandi dimensioni ve lo dico perché stamattina mi è stata fatta una domanda da un bambino chiedendomi mai i giocattoli dove vanno conferiti effettivamente se nessuno glielo spiega i giocattoli piccoli si dà la possibilità di conferirli nella plastica se effettivamente ci rendiamo conto che sono fatti di plastica nel momento in cui ci rendiamo conto che non è solamente plastica vanno inserite nel secco residuo non riciclabile invece se sono di grandi dimensioni vanno direttamente al centro comunale di raccolta stessa cosa per gli abiti e indumenti usati in buone condizioni se avete la possibilità di portarli al centro comunale di raccolta portate lì se no ci sono dei cassonetti stradali e dove potete inserirle tranquillamente un'altra cosa che mi è stata detta di sottolinearvi non a voi, a tutta la popolazione di Logorotondo perché ancora purtroppo riscontrano delle criticità è il fatto del vetro metalli il vetro metalli ancora tuttora purtroppo viene conferito nelle buste cioè gli operatori quando vanno a ritirare il vetro metalli ancora trovano questa frazione conferita nelle buste perché non deve essere conferita nella busta? uno perché se fosse non è plastica quindi di conseguenza non deve essere conferita in una busta di plastica due se comunque la quantità è molta di conseguenza l'operatore quando va a prendere la busta c'è il rischio che si rompa e tre nel momento in cui voi decidiate di portarla al centro comunale di raccolta perché magari avete una grande quantità o perché avete dimenticato di conferirlo nel momento in cui l'andate a svuotare c'è la possibilità che la busta si rompa che voi facciate male e che comunque dei pezzi di busta vadano a finire nel contenitore quindi comunque parliamo sempre di contaminazione che non va bene per il processo di riciclo altro sia per la plastica che per il vetro naturalmente noi non vi chiediamo mai di risciacquare i contenitori perché non c'è bisogno se avete la possibilità di utilizzare dei tovagliolini che avete utilizzato per pulirvi mentre pranzavate l'importante è che togliate il superfluo ma non per una questione che agli operatori che lavorano nei centri di valorizzazione e selezione faccia senso toccare qualcosa è proprio per una questione a livello di odore perché nel momento in cui andate negli impianti di valorizzazione e selezione del rifiuto percepite subito se comunque il vetro o la plastica è arrivata sporca perché si sente il cattivo odore invece nel momento in cui viene ripulito il residuo che è rimasto all'interno c'è la possibilità di non avere quel cattivo odore e altro? avete domande? sono state più spero esaustiva prego allora se ho capito bene il criterio da privilegiare per esempio nei piatti di plastica quelle dalle volte che si usano tra insomma conferirlo per materiale conferirlo pulito cioè o meglio sporco nell'indifferenziato c'è da privilegiare il materiale sì a noi il fatto che tipo il piatto di plastica il fatto che venga conferito sporco non sarà mai sporco perché comunque nel momento in cui lei ha mangiato qualcosa e non le sta andando più questa cosa non va a buttarlo direttamente cioè mette la frazione organica e poi il piatto nella plastica nel momento in cui a lei non le va di ripulirlo cioè a noi non ce ne frega nulla se lo può mettere nella plastica se lei ha la possibilità di ripulirlo con un fazzoletto che magari è utilizzato ci farebbe sì comunque un favore farebbe un favore agli impianti ma proprio a livello di... ok la seconda è il cartone del latte è sempre un grande... allora il cartone del latte che sarebbe il tetrapack sì il tetrapack adesso si deve conferire nella carta sì si conferisce nella carta naturalmente c'è il tappino di plastica che deve essere tolto e deve essere conferito nella plastica però il cartone del latte che poi sono ormai latte, succhi adesso ormai tutto è in tetrapack per la maggior parte va conferito nella carta a proposito di questo che mi sono ricordata dei succhi e adesso le cannucce per lo più sono ormai in carta perché ripeto stanno eliminando la plastica quindi ben venga se ancora troviamo in giro delle cannucce di plastica le cannucce devono essere conferite nel secco residuo non riciclabile perché non sono imballaggi non contengono nulla fondamentalmente sì come anche gli stecchi dell'ecca-lecca che adesso sono in carta tra l'altro però molto probabilmente in giro ce ne saranno ancora di plastica quelli vanno conferiti nel secco residuo non riciclabile quindi privilegiamo per la plastica il discorso degli imballaggi sì 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 l'unica cosa che può far venire il dubbio sono le posate effettivamente ma purtroppo non sono mai state inserite nella frazione della plastica perché non vengono ritenute proprio rifiuti che possono essere riutilizzabili la quarta domanda è ultima ti giuro no ci manca tutti questi dettagli sono specificati quindi noi possiamo trovarli nel dettaglio delle case ok sono comunque specificati nell'alfabeto per quanto riguarda il calendario dell'agro ci dovrebbe essere scritto tutto sì no? perché sono state sì c'è tutto scritto nel calendario comunque io vi la rimodulazione degli agri eccetera eccetera la seguiamo sempre sì 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 non è cambiato nulla noi comunque il sito lo teniamo costantemente aggiornato sì nel momento in cui non vi viene qualche dubbio potete chiamare tranquillamente il numero verde Monteco che gli operatori e gli operatrici sono attive non dico 24 ore su 24 ma quasi grazie a tutti